ormai quello che hai fatto qui è tutto quello che potevi fare e falsificati documenti che si potevano falsificare, hai ammazzato, hai stuprato donna, hai bestemmiato Dio e tutti i santi essi pure un po' gricchione io sono così vergine come sono uscite dal corpo di mamma mia che Dio ti benedica mio padre mi ha lasciato una grande eredità che io ho dato tutta ai voli beh figliuolo questi sono peccati assai leggeri e di poco conto ma chi se sta morenna e fa tutto questo per noi ma allora è veramente un usando